Sulla criminalità organizzata anche qui questo è un punto molto rilevante e il governo ha preso delle misure, per esempio le misure relative all'autoriciclaggio vanno in quella direzione, siamo ben coscienti in questo senso, la criminalità organizzata è un elemento affine che spesso si intreccia con questo, cioè la corruzione sono evidentemente al centro dell'attività del governo e siamo ben coscienti del danno oltre che sociale, politico, economico di questi fenomeni che deprimono l'economia, distruggono gli incentivi e evidentemente vanno fortemente combattuti.